Darius e IAL, perché gli amici gli hanno detto, allora, con l'IAL ti curi, con l'Electricity ti fai i danni. Prendili così hai sia i danni che le cure. E lui è a posto. Hai ragione, Pilifo. Eh, ma so bronzi. Se vince la ragione Darius, se vince, io non lo so. Derbe Nechte, scusate, Magia portami via, mi sforzo, va bene. Magia portami via. Blitzka anche con lì il graspo e vi faccio notare. Molto bello. È meta, sì, immagino. Giuro, San, a parte che Ferragosto dovrebbe essere domani, secondo i miei calcoli, non che me ne intenda tanto. E poi... Cioè... Sono uno streamer. Posso uscire quando voglio e stare in casa quando voglio. Non ho bisogno di... Aspettare le ferie. Perché le mie ferie sono quando voglio io. Però non sono pagate. Unlucky. Guarda, vado proprio... Ho un'idea migliore. Ecco qua. C'è qualcuno altro stream che non sa come si gioca a LOL? Un casino, specialmente da quando ho iniziato a fare, diciamo, roba variety. Sono arrivati un sacco di ragazzini, più che altro per le reaction, o per Minecraft e altro. È pieno di gente che mi segue e non capisce, diciamo, nulla di LOL. Cioè, molti lo vedono... Ok. Vabbè. Cioè, molti pensano magari che io giochi a qualche giorno così. Infatti dico, ma LOL è brutto, Feric, cambia. Cioè, io sono nato e cresciuto con LOL su YouTube sei anni fa. E anche su Twitch. Questo vuol dire cambialo perché è brutto. Ma chi cazzo sei? Ok. Ok. Cioè, non è, che cazzo ne so, streamer live simulator con un giochino che provi. Ah, sì, dai, carino. Così ho fatto qualche live, mi ha fatto divertire e basta. Magia portami via, ragazzi. Siamo già partiti, eh. Ho già visto un sacco di magia in quell'invade. Tuk. Ma come sta bello indietro. Oddio. Ah, te che autoattacchi tiro. Ah, ecco qua. Autoattaccata alla morte. Ok. È triggerato, ragazzi. No. Non viene. Peccato. Ci avevo sperato un sacco. Ti consigli di pro? No. Un'allie che è stato scoperto. Un ally ha stato scoperto. Dunque, ok. Dunque, eh. Eh, eh. Derbe nekt. Alla, chi? Chi l'avrebbe mai detto? Bro, usalo lì, al giacce. Ce l'hai. Ormai è lì, sfruttiamolo Comunque per Kat è facile dosarmi le spell Tanto non farma, quindi non deve pensare Non ha quella distrazione Nel mentre Vai, salta back, bravissima Tic, 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 tic A prima aveva flashato Kat, perché qua poteva flashare attraverso il muro tranquillamente Quindi immagino l'abbia fatto prima Però non me ne sono accorto Ah, questi minion Vabbè, tanto non volevo farmare Come il shot 3-8 attacco in un DE È molto più ignorante Cioè, devo Cliccare il tasto destro e basta È una sensazione molto Scusami Dovrebbe essere questo il range della combo Come, come, vabbè, non importa Dunque andiamo di Eclipse Ho farmato talmente male che ha più farm di me Nonostante sia morta due volte Vabbè che prima la waver ha messa di merda, eh Con quell'eco Vabbè E niente, si right click Ah, ma là c'è la vea al flash Grande Fieric Ma io guardo Quando riusi la mumu del fastidio Quando non avrò voglia Non è proprio un pick così emozionante A parte fare Ah, uh, ah Però non è che Sia proprio emozionantissimo Però grazie ReSab Ma voi mi fate ste domande Come se io avessi tipo Una scaletta mentale In cui programmo Non lo so Mesi di partite Della serie Quando fai questo Eh, lo faccio tra 19 giorni Perché L'ho giocato tal giorno Quindi Io letteralmente Apro la live Dico Gioco questo perché non voglia Fine Ok Tanto te l'ho sgancato Adesso comunque ha fatto una kill prima Sono orgoglioso di lui Non so come l'abbia fatta Tic Tic A b Demacia Oh no Questo non mi piace Ok Ne approfitterò per scappare Grazie Magia portami via Pronto Presidente Eh sì Albania portami via Altro che Niente Red buff schippato Tanto non serve a niente Glitz mi ha salvato È stato Cioè Sarei scappato di qua Però scappando di qua Con la bandiera Poteva riprendermi Invece Glitz ha detto Dai dai Porco di aio Tranquillo Grazie Glitz È molto gentile Con il suo Con il suo grasp Dai ma povero Darius Ma è ovvio che poi perde Non è colpa degli elettro Che lo sittano Eh no Ecco qua Tic 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 No L'ignite Gliel'ho messo in tempo Vabbè Devo metterglielo subito Ero convinto di poterla killare anche senza Invece Comunque sembra piuttosto forte No Darius Eh dai Prendiamoci l'attack speed in più Dalla banderina 20% Non è molto Ma è un lavoro onesto Come direbbe un grande poeta Ok abbiamo l'eclipse Eh lo so che c'è un sexy carretto che arriva Però prima vado back Prima torno in lane Poi tanti carretti in mid Danno meno soldi degli altri Discriminazione La nintendo switch Con lo scappo Grazie derrap per i due mesi Bentornato Ok Niente top è andato a half ufficialmente Si è annoiato di giocare contro due persone Tanto c'è colina in cespuglia So che te Eh che palle Adesso ci rifugliamo un po' di eclipse Tutti i bot tutti morti Tutti morti E magia portami via ragazzi E lei Vai su Oddio chi c'è qua Ah ma è blitz Dritto nella bandiera Andato Buoni soldi Buoni soldi Io ci potrei andare Io ci potrei andare Però poi non li aiuto più a questi Ah non frega un cazzo a nessuno proprio Loro giocano il loro ruolo Tanto non sono top laner quindi Glitzkran comunque Sta facendo un sacco di favori Ma come scappa Gli ho fatto un po' di danni L'ho percepita Lo spavento in quella Q Al contrario Super panicata Che pizze che tira Mi alleati continuano Siamo 9 a 9 Io sono 8 a 0 ragazzi Coincidenze? Io non credo Io non credo Non credo Porca troia Che cuglio ho tirato Sarà difficile sto game Comunque ve lo dico Cioè vedere com'è la loro bottele Pensando che Cioè Io ho visto la loro bottele Quindi non posso immaginare La mia come sarà Com'è Oh dai Han fatto un'altra Kill senza di me Miracolo Divino Fammi prendere Red Buff Ma proprio da Mumu Fa schifo il Red Ma da quanto è qui? E da un sacco che c'è sto Red Buff Adesso a Miss Fortune Speriamo che la magia ti porti via veramente Ovviamente 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 parlo in magia Non di altro Non voglio che pensiate sia una minaccia di morte Vai Vai Prendo anche i buff E passa la paura L'unico ad avere la kill Oltre a me era Esatto Era quello Che ridere E adesso? Vabbè non importa Ho paura che stia venendo cat A darmi fastidio Sapete Infatti è lì Io non l'avrei fatto Fossi in cat Ovviamente Qui prende Bravo Lascia a me Guarda quei pinga Magia portami via Secondo voi ragazzi Scrivo speriamo che la magia ti porti via veramente Dite che è toxic Anche se lo dico per scherzo No Dote attacchi Easy GG Speriamo la magia ti porti via veramente Spero non la prenda come una minaccia di morte Era del tipo Levati dalle palle Non tipo Muori Va bene One man army L'uomo dello stand Beh direi che Jarvan Lethality è abbastanza forte Chat Che ne dite Io direi di sì Honorolè perché è l'unica Ad aver preso le kill Quattro verso cinque Lose No no Uno verso Uno contro cinque Sai che hai guardato male Che partita hai visto E io non vedo gli altri quattro Vabbè Eh non Non mi aspetti Io ho giocato una volta In tutto Jarvan Lethality E sì faceva danno Però non mi era capitato Un game del genere Ma poi Hanno sorrendato Ma secondo me Potevano continuare Cioè non si sono Non hanno premuto tab E hanno detto Sì C'è solo Jarvan Che gioca questa partita Gli altri non servono a niente Cioè l'avrebbero potuta Tirare avanti Anche se ero grosso Vabbè Minchia Mi dicono game un po' corti Oggi ragazzi